Gli italiani vivono già più degli europei e le marche sul versante orientale dell'Appennino sembrano essere il luogo in cui le condizioni si combinano per puntare alla massima longevità. Nel giro di vent'anni il numero dei marchigiani ultracentenari è più che quintuplicato, passando da 99 a 507, a conferma del primato di longevità che vede la nostra regione al top in Italia e in Europa, grazie alla sua connotazione rurale e a una sana alimentazione. Tra gli oltre centenari, 4 su 5 sono donne, mentre la provincia con il maggior numero di persone che ha oltrepassato il secolo di vita è quella di Ancona, davanti a Pesaro Urbino, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo. Allargando poi il discorso ai marchigiani che hanno più di 80 anni, il numero è passato dai 64.984 del 1993 ai 116.651 di oggi. Il segreto per cui i marchigiani vivono più a lungo sembra essere legato allo stile di vita di campagna che la maggior parte di loro conducono. A forza di nutrirci dei nostri prodotti, la Gens Piceno, ma la Gens Marchigiana è intoso, assolutamente, anche perché il nostro primato è equamente distribuito. Siamo il luogo in occidente dove si vive di più, c'è più longevità. Siamo secondi solo al Giappone in assoluto, però lì si parla di altri stili di vita e anche di meditazione e quant'altro. Tornando a noi, le marche, pensate, hanno 506 centenari, l'ultimo censimento che è stato fatto nello scorso 2014, equidistribuiti nelle cinque province. Quindi questo significa che c'è un benessere diffuso. E allora, cos'è la nutrigenomica? Chi entra nel nostro genotipo, cioè quello che siamo, è condizionato comunque nel tempo di quello che facciamo, mangiamo, beviamo, ma anche pensiamo. Quindi io parlerei di marque style, di stile non soltanto alimentare, ma anche di stile di vita, che magari siamo molto meno veloci di quelli del nord, meno disattenti di quelli del sud. Noi siamo in mezzo e abbiamo, dico io, un gran privilegio, le due A, le A di Appennini e le A di Adriatico. E in questa conca gioviamo tutti noi abitanti di tanti prodotti della terra e del mare che ci hanno resi marchigiani.